A seguito dell'incendio avvenuto alla fabbrica ICS di Piano Dardi nel 13 settembre scorso, l'amministrazione comunale di Avellini e i comuni dei siti limitrofi emanarono un provvedimento che vietava in maniera cautelativa la raccolta di frutta e verdura, l'utilizzo delle acque da pozzo per uso in riguo, il pascolamento sull'intero territorio comunale e ovviamente il divieto tassativo di abbruciamento vegetali. Dopo l'analisi effettuata dai tecnici dell'ARPAC, le quali dichiararono il cessato allarme, l'ordinanza suscitata fu revocata, ma sulla questione abbruciamento vegetali successivamente all'incendio ICS, non tutti i comuni hanno adottato la stessa misura. Infatti nella giornata di ieri 1 ottobre, ossia il primo giorno dal termine del divieto, in Irpina si sono registrati già diversi rubi agricoli. Per fare chiarezza sulla vicenda abbiamo interpellato le amministrazioni dei comuni irpini. Ad Avellino è stata prorogata l'ordinanza 161, la quale prevede, ai fini della tutela ambientale, il divieto assoluto di abbruciamenti. A Mercogliano invece, con il termine del divieto, verrà ripristinato il provvedimento emanato nel 2014, il quale permette l'abbruciatura dei residui agricoli tutti i giorni nella fascia oraria 11-16. A Monteforte Irpino il sindaco Costantino Giordano ha firmato un'ordinanza che prevede l'abbruciatura dei vegetali il martedì e il sabato dalle ore 10 alle ore 15. Ad Atripalda, infine, stamane il sindaco Giuseppe Spagnolo ha firmato il nuovo provvedimento, il quale permette l'abbruciatura due giorni a settimana, il mercoledì e il sabato nella fascia oraria 10-16. Ovviamente la possibilità di accensione dei residui di natura agricola potrà essere possibile se ci sarà assenza di vento e con la presenza fisica della persona interessata, la quale dovrà costantemente monitorare il luogo per evitare che possa propagarsi e causare danni.